No, è curioso, tutti si domandano perché queste dieci banche? Sono banche di amici degli amici, l'avete sempre fatto da quando Fassino urlava abbiamo una banca, urlava Fassino, adesso magari hanno messo le mani su qualche altra banca fino a dieci, soliti amici degli amici, la banca Etruria, ma in che paese siamo dove il padre del ministro per i rapporti del Parlamento è il vicepresidente di queste banche che avranno un favore, hanno già avuto un favore importante, il ministro è piccolo azionista e l'altro fratello è dipendente, ma che razza di paese è questo? Se l'avesse fatta Berlusconi una manovra del genere avreste occupato le commissioni ecco, plagali Rosato, plagali, vergognatevi, tutto per mantenere un posto di lavoro una poltrona a 14 mila euro al mese, ingoiate tutte queste schifezze, ingoiate roba che neanche in Forza Italia hanno ingoiato, paradossalmente hanno avuto più dignità loro non difendevano le porcate con le supercazzo le vostre, siete una vergogna difendete gli interessi delle banche solo per quel posto di lavoro non avete un briciolo di coscienza pensate se un ministro di Berlusconi, che avrebbe fatto Ezio Mauro, Scalfari che avrebbero fatto? Circondato il Parlamento tutti i citti perché lo fa la sinistra e la sinistra si sente ontologicamente superiore Colleghi, lasciate concludere Lei si rivolga alla Presidenza, onorevole Di Battista Onorevole Di Battista, si rivolga alla Presidenza Siete vergognosi, grazie Presidente, grazie Allora Brandolino, Brandolino